Ciao a tutti, oddio che inquadratura terribile, nuovo video dedicato alla carriera e alla formazione. Di cosa vi voglio parlare in questo bel contesto verdeggiante? Vi voglio parlare di come affrontare la situazione o le situazioni in cui vi trovate a lavorare in un'azienda in cui non viene dato particolare valore, o per nulla, alla formazione. Purtroppo è una situazione abbastanza comune, soprattutto anche nelle grandissime aziende di cui non farò nomi, mi spiace. Se volete sapere i nomi, entrate magari nella community, ne parliamo in maniera un po' più diretta, ma non posso farli pubblicamente. E quindi di capire come fare. Sostanzialmente sono diverse le persone che vengono a parlare con me, con noi, e che manifestano proprio situazioni di questo tipo. Prima di iniziare, sigla! Allora, la prima cosa da fare per capire come muoversi più che altro è di, diciamo, analizzare un po' il contesto. La prima cosa che vi consiglio di fare è di valutare le vostre opzioni interne. Cosa vuol dire valutare le opzioni interne? Scusate, oggi sono particolarmente dislessico. Vuol dire capire un attimo chi avete attorno. Quindi cercare di capire un attimo chi sono i vostri colleghi, se c'è qualche collega più esperto di voi da cui potete apprendere nozioni, se ci sono persone che sono anche disposte a condividere la loro esperienza e la loro seniority per farvi imparare e se qualora ci fossero, provate direttamente a chiedere anche loro se sono disposte a farvi da mentor in questo percorso. Alcune aziende mettono proprio a disposizione dei veri e propri mentor o tutor in modo esplicito. Altre invece non lo fanno del tutto, stiamo parlando di questa realtà, quindi magari provate a muovervi voi in modo indipendente per cercare di trovare i colleghi che in qualche modo vi possono aiutare. Questo è il primo punto che riguarda la valutazione dell'ambiente, diciamo così, interno. Il secondo punto è quello di cercare di sfruttare i momenti di formazione informale. Cosa intendo per informale? Vuol dire che, diciamo, etimologicamente, l'ho detto bene, grande, etimologicamente la formazione la intendiamo come qualcosa di verticale, qualcosa che magari avviene anche in aula, attraverso dei corsi o quant'altro. Non è sempre così o non è per forza così. Per formazione possiamo anche intendere vari momenti in cui possiamo apprendere qualcosa. Questi momenti sono magari anche solo riunioni, possono essere meeting fatti tra colleghi in cui magari possiamo partecipare e apprendere qualcosa di nuovo. Possono essere anche degli eventi, possono essere delle conferenze di settore, possono essere tutte quelle attività che comunque ci fanno imparare qualcosa. Sono molto importanti perché non è detto che l'apprendimento sia necessariamente qualcosa di strettamente legato a quello che facciamo oggi nel quotidiano. Poi nel nostro settore è particolarmente necessario comunque guardare costantemente quello che succede. Quindi quanto più avete l'opportunità, sempre contestualmente al lavoro, di partecipare a meetup, conferenze e quant'altro, fatelo perché è un'ottima occasione di, per l'appunto, formazione informale. Inoltre diverse aziende si avvalgono a volte anche di professionisti esterni. Quindi se riusciste a interagire anche con queste persone, sicuramente sarebbero delle occasioni importanti di apprendimento di qualcosa, anche solo di come si lavora in un certo modo. Tutto è funzionale comunque all'apprendimento di qualcosa a livello generale. Dopodiché, dopo che avete valutato, diciamo, le vostre opzioni interne, valutate quelle esterne. Ovvero, comunque, lo sfruttare corsi, piattaforme di corsi, sono veramente tante. Corsera, Udemy, LinkedIn Learning, cioè veramente di tantissimi tipi, per imparare qualcosa di nuovo. Anche la community di Tomorrow Devs, per esempio, perché se entraste potreste partecipare a una serie di eventi settimanali che sono molto interessanti dal punto di vista della formazione. Fine marchetta. Chiaramente, se riuscite a trovare qualcosa che si avvicini al vostro contesto professionale, che permette di crescere secondo quelle che sono le nozioni che vi servono, sarebbe molto, molto, molto utile invece di, diciamo, fare qualcosa di estremamente generalista. Da questo punto di vista, chiaramente, i corsi online sono un'ottima risorsa. Ma non bisogna dimenticare anche i vecchi e buoni libri. I libri ce ne sono veramente tanti. La pecca dei libri è che invecchiano molto velocemente alcuni, perché trattano ambiti che evolvono così tanto velocemente che dal momento in cui viene iniziata la scrittura al momento in cui escono i libri, il contesto è già cambiato e il libro è già diventato obsoleto. Però ce ne sono veramente tanti altri che invece difficilmente cambiano. Parliamo magari di architetture, software design. Cioè, sono veramente tanti che sono molto, molto interessanti e che non invecchiano così rapidamente. Quindi letture, pubblicazioni, articoli. Vi posso citare fonti come, per esempio, Medium, Reddit. Ci sono anche delle estensioni per browser che vi sottopongono i migliori articoli tech quotidiani. Insomma, la lettura comunque è parte integrante del rimanere informati in contesti in cui, in realtà a prescindere, anche se l'azienda investisse nella vostra stessa formazione. La terza parte di questo video è orientata invece nel cercare di porre un rimedio alla situazione in cui lavorate in un contesto in cui non si dà particolare peso alla formazione. Qui avete più possibilità, non è detto che vadano a un buon fine, però è giusto provarci. Allora, il primo è quello di parlare con i responsabili e proporre loro un piano di crescita professionale, spiegando loro quanto investire nella formazione dei dipendenti in generale porti un risultato e dei benefici alle persone e all'azienda stessa sul lungo periodo. Perché questo è sotto gli occhi di tutti, cioè non si tratta semplicemente di imparare per poi acquisire delle skill che andrete a utilizzare in altre aziende, perché questa è la paura che a volte si ha nelle aziende stesse, che faccio della formazione delle persone e poi queste persone se ne vanno. Benissimo, però se non si investe mai nella formazione comunque si rimane sempre a un basso livello. Le persone comunque andranno da altre parti e bisogna sempre ricominciare da capo. Invece un piano dedicato alla formazione per i dipendenti permette probabilmente di avere anche meno turnover all'interno dell'azienda stessa, perché chiaramente dipendenti felici e dipendenti che vengono in qualche modo anche incentivati a rimanere anche attraverso la formazione stessa difficilmente andranno via, o comunque più difficilmente. In alcune aziende invece c'è l'opportunità magari di fare dei workshop, dei piccoli meetup interni in cui mettersi in mostra, mettersi un po' alla prova. Questa è un'altra ottima opportunità perché innanzitutto preparare un evento di questo tipo, un talk all'interno di un'azienda, anche se davanti a poche persone, richiede studio, richiede formazione, quindi fa migliorare, anche sotto il punto di vista chiaramente del public speaking, ma anche delle conoscenze tecniche. In secondo luogo mette in evidenza quelle che sono le vostre capacità, i vostri valori e ulteriormente avvalora la tesi di come investire nella formazione sia importante in azienda perché si vede che una persona che studia è più competente, sa esporre meglio le cose ed è più di valore per l'azienda. Ecco, questo potreste provare a proporlo anche in un'azienda in cui non si fa formazione e dire guardate io vorrei provare a fare un workshop, se non viene fatto all'interno dell'azienda provate a proporlo di farlo fuori, quindi vi candidate per qualche evento, ci sono tantissime conferenze anche piccole, anche in cui sono diciamo accettati speaker alle prime esperienze, proprio come diciamo open mic, avete l'opportunità di entrare sul palco e parlare di quello che vi pare, sono ottimi strumenti per poter imparare, quindi provate a chiedere all'azienda se vi lascia l'opportunità di fare questa cosa. Quarto e ultimo capitolo, muovetevi voi in prima persona, a prescindere comunque dovete muovervi, già non potete aspettare per forza che sia l'azienda a prendere delle strade e delle decisioni in vostra vece, dovete comunque muovervi in autonomia, quindi fare progetti personali, studiare qualcosa in autonomia, cercare voi una strada per poter essere seguiti. Vi ho menzionato il fatto di avere colleghi esperti, vi ho menzionato il fatto di seguire dei corsi, vi ho menzionato il fatto di provare a fare dei talk o di preparare un programma specifico di formazione su di voi. Se l'azienda ha sotto tutti questi punti non ci sente, allora prima di tutto probabilmente siete un'azienda sbagliata, secondo lo potete fare voi esternamente sulla vostra persona perché chiaramente la vita è la vostra, dovete investire su quello che è il vostro futuro, quindi lasciare da parte la formazione semplicemente perché l'azienda non la fa in prima persona è un errore clamoroso, è un autogol che pagherete caro sul lungo periodo, quindi qualora l'azienda non lo facesse avete altre strade per poterlo fare. Una delle tante e non l'unica chiaramente, una delle tante siamo anche noi, possiamo seguirvi, possiamo farvi da mentor, possiamo strutturare dei programmi specifici su di voi, possiamo farvi fare dei progetti, possiamo farvi fare anche dei talk, aiutarvi a tenere dei talk, insomma tutto quello che mi ha menzionato tecnicamente lo possiamo fare anche noi. Ora, questo non vuol dire venite assolutamente da noi, però dico, tra le tante opzioni se doveste proprio sentirvi da soli perché vi ho detto un sacco di cose che la vostra azienda non fa e guardando questo video avete detto, eh cacchio, tutto bello, però la mia azienda se ne sbatte, allora ci siamo noi, fate magari anche una chiacchierata insieme a noi e vediamo se è qualcosa di fattibile. Potenzialmente potremmo anche proporre noi alla vostra stessa azienda o voi all'azienda di chiamare noi per seguire le persone e farle crescere, insomma, possono nascere un sacco di possibilità. Però l'intento principale era comunque quello di darvi dei consigli. Detto questo, io vi ricordo che la community di TumorDevs è open e freemium, quindi potete entrare e continuare questa discussione, avere dei consigli e quant'altro. Potete seguirci sui social, LinkedIn, YouTube, abbiamo il canale Telegram, però Discord ormai è la nostra casa e condividete il video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!